Il treno plenato Express 4598 di Trenitalia, proveniente da Roma 10, il treno del 1.9.37 è in arrivo al di Mario 1, all'onanassita della linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al di Mario 1, all'onanassita della linea gialla. Il treno alta velocità a faccia rossa, montante 3.35 di Trenitalia, delle ore 9.38 per Napoli Centrale, è in partenza dal di Mario 2. Attenzione, all'onanassita della linea gialla. Ferma Roma-Termini, Napoli a Fragora. Il treno regionale 2615 di Trenitalia, proveniente da Roma 10, Comediente da Farasalina, delle ore 9.42, è in arrivo al di Mario 3. Attenzione, all'onanassita della linea gialla. Il treno plenato Express 4599 di Trenitalia, per Roma Termini, delle ore 9.53, è in partenza dal di Mario 3. Attenzione, all'onanassita della linea gialla. Attenzione, all'onanassita della linea gialla. Non sono previste fermate i treni. Il treno regionale 2428 di Trenitalia, proveniente da Porte, delle ore 9.48, è in arrivo al di Mario 3. Attenzione, all'onanassita della linea gialla. Attenzione, si rammenta che è vietato attraversare i binari. Servirsi del sottopasso. Attenzione, per favore. Il treno dei treni è proibito. Per favore, usate l'inverno di passaggio. Il treno plenato Express 4600 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, delle ore 9.52, è in arrivo al di Mario 2. Attenzione, all'onanassita della linea gialla. Si informano i passeggeri che, dall'ora 21 di sabato 23 marzo, all'ora 21 di domenica 24 marzo, i treni potranno spire variazioni o cancellazioni per uno sciopero indetto dal personale di Trenitalia, Trenitalia di Berklero. Maggiori informazioni sul sito trenitalia.com 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 Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. giornata. a tutti. 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 siamo in arrivo. in orario. a Roma Termini. We are now arriving in. Roma Termini. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. erila. he ormai a tutti. a tutti. All'autunassi dalla linea gialla. Si informano i genitivi passaggiere che il treno in arrivo ordinario 21 cammina a corsa. Il treno regionale 2234 di Trenitalia, proveniente da 21 delle ore 10 e 18 e in arrivo ordinario 16. Attenzione! All'autunassi dalla linea gialla. Il treno regionale 2234 di Trenitalia, proveniente da 21 delle ore 10 e 18, in arrivo ordinario 5, in grigio ordinario 16. Informiamo i passaggiere che il treno in arrivo ordinario 21 cammina a corsa.